E signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, che oramai penso conosciate meglio di me, da me, Metal Mike, ottimo massimo, metallaro per grazia di Dio e volontà della nazione, dal mio giubbino da combattimento e da una piccola rarità calcistica proveniente dalla Germania, ovvero sia la maglia del Fortuna Sell, un altro dei piccoli cimeli della mia collezione di magliette di calcio. Allora, cari signori, torniamo in questo video a parlare di Wunderwaffen, ovvero sia di una delle più, cioè di quella che forse è la più clamorosa delle armi meravigliose tedesche, cioè la presunta bomba atomica vista scoppiare da Luigi Romersa nell'ottobre del 1944. Allora, se vi ricordate bene qualche giorno fa, qualche tempo fa, ho postato un video in cui parlavo proprio della bomba vista esplodere da Romersa. Allora, è successo che nel corso di una conversazione su Facebook, su alcuni gruppi Facebook inerenti alla Seconda Guerra Mondiale di cui mi onoro di far parte, è saltato fuori il solito fenomeno che crede con tutto il cuore e con tutte le forze alla bomba atomica tedesca, cioè allo scoppio della bomba atomica tedesca, cioè i tedeschi avrebbero fatto esplodere, se non la bomba atomica, quantomeno una, tra virgolette, bomba sporca che Romersa, il giornalista Luigi Romersa, avrebbe visto esplodere nell'ottobre 1944. Allora, ne ho già parlato, praticamente Romersa era un giornalista inviato dal luce in Germania. I tedeschi gli fecero vedere tutta una serie di Wunderwaffen, compreso lo scoppio di questa bomba in un poligono di tiro a Rügen sul Baltico. Ok? Allora, io come tanti, insomma, è stato provato che i tedeschi non avevano alcuna bomba atomica. È stato provato indiscutibilmente che la ricerca atomica tedesca era clamorosamente indietro di almeno dieci anni. La ricerca atomica tedesca, sappiamo bene, che era stata letteralmente spazzata via dalle leggi razziali che avevano praticamente tolto di mezzo gli scienziati ebrei costretti ad emigrare. Ok? Era rimasto divalido di scienziati, di fisici atomici, di fisici nucleari tedeschi. Era rimasto soltanto il professor Heisenberg, che era tutt'altro che entusiasta di collaborare con il nazismo. Ok? Però, mettiamola così, ancora c'è gente che crede a questa storia, che Romersa ha visto scoppiare un ordigno nucleare, ha visto scoppiare una bomba sporca, Romersa ha visto esplodere qualcosa. Sì, Romersa ha visto esplodere qualcosa, ma non era di sicuro una bomba atomica, non era di sicuro una bomba sporca, perché i tedeschi non ce l'avevano, non avevano fisicamente, non arrivarono mai alla cosiddetta ingegnerizzazione del progetto atomico. Erano, dalle mie parti, si dice che, ierne indietro, come il Vogle del Biroccio, che erano per i non metaurensi. Il Vogle è praticamente una sorta di cricchetto che nei Birocci trainati dai buoi serviva a tirare la corda che fermava il carico sul Biroccio suddetto ed era posto sempre nella parte posteriore del Biroccio, del carretto. E da noi si dice così, erano indietro come il cricchetto del Biroccio. Ecco, praticamente così. Abbiate pazienza. Scusate se ogni tanto mi scappano le parole in dialetto, però sapete com'è, fa colore. Va bene, scusate. Allora, dicevo, questa storia di Romersa. Allora, nel corso di queste accese discussioni su Facebook che mi sono capitate, ho letto una considerazione del signor Pietro Suffritti, che di professione si occupa di statistica. E l'ho trovata molto interessante perché ci spiega molto bene non solo che cos'è la bufala di Romersa. Ma che cosa sono, cioè, bufala, la fake news costruita attorno alla cosiddetta bomba atomica di Romersa. Ma che ci fa capire, per chi vuole capirli, anche i meccanismi di certa propaganda. Quindi state a sentire bene quello che il signor Pietro Suffritti ci dice. Allora, il signor Suffritti ammette, e lo ammetto anche io, che siamo assolutamente ignoranti in materia di tecnica sulle bombe atomiche. Ma il signor Suffritti si pone una interessante domanda. Allora, la sicurezza tramite offuscamento, detta anche i segreti, non funziona. Ok? E per non funziona si intende veramente che non funziona. Allora, la segretezza, i segreti, la sicurezza tramite offuscamento richiede sforzi spropositati per essere parzialmente efficace nel breve periodo. E nel medio periodo non regge mai figurarsi nel lungo periodo. Un periodo di più di 70 anni. Perché? Ora si sta parlando di una tecnologia vecchia di 70 anni, quella della bomba atomica. Sono decaduti tutti i limiti di segreto di Stato e addirittura gli Stati che tenevano il segreto. Alcuni addirittura non esistono neanche più. Ok? La produzione di testate nucleari viene regolata malamente e con ben poca efficacia tramite il controllo del mercato degli elementi fissili, ovvero sia degli elementi radioattivi, dell'uranio e del plutonio. Ok? E non certo tramite un impossibile controllo della conoscenza di leggi fisiche. Eppure a tutt'oggi l'atomica hitleriana resterebbe un segreto. Oibo, il segreto dell'atomica di Hitler. Ancora c'è gente che ci crede. Perché? È la prima domanda. E ancora di più chi starebbe infestendo le robuste cifre necessarie a mantenere questo segreto? Cioè chi caccia i soldi per mantenere questo segreto? Sono due domande che uno si deve chiedere, che uno si deve porre? Perché mantenere il segreto ancora dopo 70 anni? E ancora di più chi caccia i soldi per mantenere questo segreto dopo 70 anni? Vabbè. Se oggi sappiamo tutto, praticamente tutto, su tutte le Wunderwaffen e praticamente nulla sull'atomica tedesca, diciamo che le conclusioni sono abbastanza semplici. Ok? Uno. I tedeschi avevano iniziato a studiare l'atomica? Quasi sicuramente. Anzi, leviamo il quasi. Sicuramente. Erano progrediti fino alla fase ingegneristica? Quasi sicuramente no. Ok? Quindi, quindi, roversa con, scusate, romersa con la sua testimonianza dello scoppio di questa iperbomba al poligono di Rugen è un bugiardo? Probabilmente, quasi sicuramente no. Perché? La buona fede di Romersa non credo che sia in discussione. Ma allora, come si spiega questa contraddizione? Si chiede il, insomma, si chiede il signor Suffritti. Allora, è impossibile. Allora, c'è un perché ancora si parla della bomba atomica tedesca? Perché se è impossibile tenere un segreto, e ripeto, impossibile tenere un segreto, è invece facilissimo, molto facile, estremamente facile, diffondere falsità. E si chiama propaganda. Funziona così bene la propaganda che a distanza di duemila anni tutti sono ancora convinti che Nerone suonasse la lira davanti all'incendio di Roma da lui stesso appiccato, cosa che sembra quasi sicuro non sia invece successa, o della follia di Caligola che nomina senatore il suo cavallo. Hitler era stato talmente tanto convinto della forza militare italiana prebellica che fu l'unica cosa che gli fece ritardare per qualche tempo l'annessione dell'Austria, l'Anschluss. E si potrebbe anche continuare, ma di che cosa fu testimone Romersa? Sicuramente fu testimone di qualcosa, ci dice il signor Suffritti. Qualche cosa che, ma quel qualcosa non era sicuramente la bomba atomica? Perché non c'era, cioè non c'era fisicamente questa bomba atomica. Molto probabilmente questa è una mia teoria. Forse Romersa ha visto esplodere uno dei proiettili da 800 millimetri del famoso super cannone d'ora. Ve lo ricordate il super cannone ferroviario dell'assedio di Sebastopoli. Probabilmente, forse, vide esplodere quello. Allora, quel qualcosa che vide Romersa era realmente un progetto funzionante di bomba atomica? Improbabile, estremamente improbabile. Pressoché impossibile, ok? Ma bisogna fare attenzione perché c'era un'altra persona che, oltre a Romersa, ci credeva fortemente con tutto se stesso, cioè Hitler. Perché? Perché se uno deve scegliere tra il raccontare una balla al Führer e finire sul fronte occidentale o orientale, peggio ancora, uno si inventa anche le bombe a sputi. E quando parlerò dei fratelli Orten ci sarà da ridere perché loro erano specialisti. Ma torniamo un attimo a noi. Allora, come hanno sempre scoperto tutti i dittatori che punivano il fallimento, questo processo, ovvero sia il raccontare balle al dittatore di turno, non porta ad avere più successi, ma ancora più balle, ancora più bugie, ancora più fanfaronate. Se volete delle controprove, se volete la dimostrazione fisica di questo assunto, basti chiedere al senatore McCarthy, a Stalin, a Mao e a tutta la parafernalia varia dei dittatori che infestano la storia dell'umanità tutta. Insomma, Pietro Suffritti è stato estremamente chiaro nelle sue parole, ma c'è anche da dire, da fare un'aggiunta. L'amico Fausto Serventi mi ha detto che praticamente questa storia della bomba vista esplodere da Romersa non sta in piedi per un altro motivo molto più concreto. Allora, perché se avevano fatto esplodere questa bomba potentissima per prova vista da Romersa, perché non ne hanno fatte altre uguali da usare dove necessario? Eh, perché nessuno si pone sta domanda? Vabbè, uno si chiede, continua l'amico Fausto Serventi, che se hanno costruito una bomba di prova messi con le spalle al muro dall'avanzata degli angloamericani e dei russi, perché non ne hanno usata neanche una? Cioè, allora, tutto lo stato maggiore del partito e delle forze armate doveva sapere di questa bomba, ma nessuno ne ha chiesto l'impiego in guerra. Insomma, hanno mandato in volo piloti semisuicidi dentro dei razzi perché non avevano la tecnologia per guidarli, per gestirli. E tutto quello che era possibile gettare nella fornace della guerra, ce lo buttarono. Cioè, ma perché la bomba di Romersa non si è mai vista su un campo di battaglia? Cioè, e ripeto, parliamo di una bomba collaudata nell'ottobre 1944 e quindi di tempo per farne un'altra, ce n'era e ce n'era eccome, ma nessuno pensa questa cosa. Inoltre, ripeto la considerazione che ho fatto a proposito di Romersa nel mio precedente video. Romersa era un giornalista che doveva scrivere articoli di propaganda sui giornali italiani e vedeva le cose che i tedeschi gli facevano vedere. Ok? Concediamogli la buona fede, va bene, ma tu sei un giornalista della Repubblica Sociale Italiana, sei chiamato in Germania per scrivere articoli di propaganda, va bene? Non puoi certo dire pubblicamente la verità, ovvero sia che la Germania nell'ottobre 1944, nonostante tutti i progetti di superarne, nonostante la iperbomba vista esplodere, era la canna del gas e nel suo rapporto segreto personale al Duce Romersa lo disse chiaramente che il divario tra gli alleati anglo-americani e sovietici e i tedeschi era assolutamente incolmabile e che le favolose armi tedesche non sarebbero servite a nulla. Romersa lo scrisse nel suo rapporto segreto personale al Duce. Il Duce non se ne diede per inteso e quando fece il famoso discorso al Teatro Lirico di Milano citò anche lui le famose armi segrete che avrebbero ribaltato d'amblè il corso della guerra. Cioè basta leggersi il testo del discorso del Teatro Lirico di Milano, il testo del discorso di Mussolini al Teatro Lirico di Milano, parla delle armi segrete. Cioè insomma la propaganda, la propaganda, la bomba atomica di Hitler era un'arma di propaganda. Questo qui non è che ci voglia tanto a capirlo. Cioè Mussolini era uno che, ritorniamo un attimo al discorso del Teatro Lirico di Milano in cui Mussolini si esaltava le armi segrete tedesche che avrebbero ribaltato il corso della guerra. Cioè Mussolini parlava anche ad Attolico e a Ciano anni prima della fantomatica esplosione vista da Romersa. Mussolini credette o volle credere anche alla famosa storia del raggio della morte. Cioè il raggio della morte inventato da Nikola Tesla, nascosto da Guglielmo Marconi, cioè tutte queste cose così. Mussolini ci credeva perché oggettivamente sappiamo bene che la cultura di Mussolini tutto sommato era piuttosto modesta. Mussolini ahimè si atteggiava al guerriero e al condottiero che non era lui. Tutto vedeva, tutto sapeva e a tutto credeva oggettivamente e soprattutto credeva alla sua stessa propaganda. Ma questo è un altro discorso che ci porterebbe decisamente troppo lontano. Quindi ripeto, la questione propagandistica della bomba di Romersa è evidente, oramai a distanza di centant'anni è evidente. Come hanno detto il signor Suffritti e l'amico Serventi, si tratta semplicemente di propaganda, di un grande successo propagandistico tedesco. Ma c'era solo quello. Era una balla, la bomba atomica tedesca a cui Hitler credeva fortemente, era una balla cacciata dagli scienziati che erano terrorizzati al pensiero di finire a combattere sul fronte russo o di finire a spaccare pietre con la testa a Mauthausen e raccoglierle col culo. Nelle dittature funziona così. Ripeto, Stalin e Mao di queste cose ne sanno qualche cosa e ne hanno combinate ben di peggio a livello di castronerie scientifiche a cui hanno creduto rispetto a quelle di Hitler. Signori, la verità è questa. Si trattava di una trovata propagandistica pura e semplice perché a distanza di 70 anni è fisicamente impossibile che il segreto sia stato ancora mantenuto sulla bomba atomica di Hitler. Ripeto, sulle Wunderwaffen tedesche oramai si sa praticamente tutto. Se non tutto, se non tutto. O tutto o quasi tutto. si sa sulle Wunderwaffen tedesche. Possibile che dopo 70 anni non sia trapelato niente di niente se non la testimonianza di Romersa? Signori, ragionateci un attimo. Lo ripeto per l'ennesima volta. Romersa era un giornalista della Repubblica Sociale italiana che doveva scrivere articoli di propaganda a cui i tedeschi fecero vedere quello che volevano e fecero e raccontarono quello che volevano, quello che volevano raccontargli, quello che volevano fargli credere. Ma Romersa, ripeto, tutti continuano a credere alla sua bomba, alla visione di questa iperbomba esplosa sotto i suoi occhi nell'ottobre 44 al poligono di Rügen. Ma perché nessuno cita le 40 pagine del rapporto segreto che stilò per Mussolini al suo ritorno in Italia, in cui diceva chiaramente che la situazione era ormai irrecuperabile? Signori, io più di questo sinceramente non vi posso dire. Volete continuare a credere alla storiella della bomba dell'atomica di Hitler? Continuate pure. Ma la logica, la logica, la logica, logica, il 2 più 2 dimostra semplicemente che la bomba atomica di Hitler era ben lontana dall'essere realizzata. Tutto qui. Quindi, cari, dimenticavo, oltre, ripeto, oltre alle mancate prove sull'esistenza dell'atomica di Hitler, ci sono tutte le testimonianze degli scienziati della cosiddetta operazione Paperclip, del recupero degli scienziati atomici tedeschi fatto dagli americani. I ritrovamenti nei laboratori tedeschi da parte degli americani parlano chiaro, erano mostruosamente indietro rispetto agli stessi americani, che avrebbero raggiunto lo scopo di costruire la bomba atomica da lì a qualche mese. E scoprirono anche gli americani che la strada scelta dai tedeschi per la costruzione della bomba atomica era sbagliata, era un vicolo cieco. Ma, ahimè, che vi posso dire? Continuate pure a credere, cioè, certa gente continua ancora a credere a questa storia di propaganda. E ripeto, propaganda, balle! È bello credere alle belle bugie. La bomba atomica segreta di Hitler. Dopo 70 anni un segreto non esiste più. Si sa che non esiste più. Cioè, dopo 70 anni tutto, praticamente tutto quello che c'era da sapere sulla Seconda Guerra Mondiale è saltato fuori. E pochi cazzi. Da Enigma fino all'operazione Min Smith, dalla guerra di spie fino ai segreti delle Wunderwaffen, tutto, praticamente tutto è saltato fuori. Ci sarà ancora qualche cosa sepolto negli archivi? Non posso saperlo e non posso neanche negarlo. Però oggettivamente, siamo sinceri, signori, sono passati più di 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e tutti i segreti sulla fabbricazione delle bombe atomiche americane, quelle vere, sono finiti. Cioè, insomma, non c'è più il segreto su quelle cose. Ok? Perché ancora continuare a credere a questa storia del segreto mantenuto sull'atomica di Hitler? Perché? Punto primo. Punto secondo. Chi è che spende tutti quei soldi ancora per mantenere un segreto di 70 anni tecnologicamente superato? Ormai. Pensateci a questa cosa. Ragionateci sopra. Io più di questo, sinceramente, non vi posso dire. Cioè, io mi raccomando sempre una cosa. Controllate sempre le fonti. A volte ho sbagliato anche io. Lo dico senza problemi. Tante volte ho fatto degli errori. Anche io ho fatto degli errori. Anche io ho creduto alle fake news di propaganda. Ma mi sono accorto di essere caduto nella trappola, per fortuna. Perché tanta gente ancora continua con tutte le forze a voler credere a questa bufala che basta fare semplicemente due più due e ti accorgi che è una castroneria enorme? Propaganda. 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 L'abilità propagandistica di Goebbels. L'abilità propagandistica del Terzo Reich. Indubbiamente. Quindi, cari signori, ripeto, pensateci sopra, pensate a quello che ho detto, pensate a quello che ha detto il signor Suffritti, pensate anche a quello che ha detto l'amico Fausto Servetti. E ragionateci sopra. Basta far funzionare la testa, basta applicare un pochino la logica, cari signori. La logica. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video. Buona sera.